Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La nuova stagione di Amici di Maria è alle porte e il cast dei docenti è ancora avvolto nel mistero. D'Agospia ha svelato il mese scorso che Raimondo Todaro non farà più parte della squadra di insegnanti di Amici, ruolo che ha ricoperto dal 2021 al 2024. Ma chi prenderà il suo posto? Il mistero dell'uscita di Raimondo dallo show è stato analizzato dalla rivista settimanale Di Più. Secondo la pubblicazione, le dispute con la collega Alessandra Celentano sarebbero alla base della decisione di Todaro. Tuttavia Maria De Filippi avrebbe cercato di convincere il maestro a restare, sfruttando il suo carisma. Ma sarà abbastanza per farlo tornare? Solo il tempo lo dirà. La sua frustrazione causata dai contrasti con gli altri docenti del programma, in particolare con la Celentano, sembra averlo portato al punto di voler dire basta. Dejanira Marzano, però, ha affermato che motivi personali non legati al programma sarebbero dietro la decisione di Raimondo di abbandonare lo show. Di Più ha inoltre suggerito due possibili nomi per la sostituzione di Raimondo. Stefano Oradei, che si è dichiarato disponibile ad unirsi al cast di Amici, e Adriano Bettinelli, ex professionista del talento. Maria ha una buona conoscenza di lui. Era uno degli studenti di Amici nel 2009. Adriano, nei successivi anni, c'è una buona conoscenza di Raimondo di Abbandonare, che si è dichiarato a livello internazionale, e tra ieri nel corso del film di canzoni, come Andrea Bocelli, Andrea Bocelli, Andrea Bocelli, Andrea Bocelli, Andrea Bocelli, Andrea Bocelli, Andrea Bocelli,